ciao ragazzi bentornati sul canale oggi voglio fare un video che magari anche voi che vedete il video mi potete consigliare se conoscete le telecamere diciamo per fare un upgrade professionali ma non troppo costose quindi ci sono vari siti che consigliano per esempio in questo consigliano la appunto nell'altro video stavo parlando di questa della telecamera il google pixel 3 che dovrebbe avere la risoluzione in 4k lo stabilizzatore inizia a essere una vera telecamera professionale e mi è partito poi c'è un altro consiglia comunque io sto pensando al google pixel 3 questo qua che ha 4k capito adesso c'è un fissa questa cosa qua il google pixel c'ha un costo inferiore ai 100 euro e con la telecamera 4k poi c'è il samsung galaxy s10 però dovrebbe essere ancora costoso cioè però comunque c'è un samsung galaxy s10 qua inizia a essere il top delle telecamere comunque uno dei migliori telefonini puoi fare 4k c'è un terabyte questo c'è 128 gigabyte questo è un terabyte c'è poi c'è lo huawei p20 pro però mi stanno sconsigliando lo huawei perché da anche questo ha una telecamera ottima in 4k comunque stiamo parlando del top gamma qua 4k solo per far per produrre video non per fare chiamate solo per produrre video che sto canale comunque sta crescendo quindi questi comunque hanno un prezzo superiore penso sony xperia z3 anche questo 4k sono tutti i telefoni col 4k vuoi fare super fotografie poi c'è oneplus 6d 4k anche questo a 30 fps a 60 scusate ogni tanto mi viene a parlare in inglese poi lg g7 wow anche questo 4k è un smartphone comunque c'è una qualità eccezionale anche quello del gaming comunque con l'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale nella videocamera c'è anche le lg ma anche questo htc che non conosco forse qualcuno l'ha comprato per i miei conoscenti però non conosco anche questo 4k 60 fps super top gamma anche questo non conosco honorview 20 4k e poi anche fare i video in 3d quindi mi piace a me ogni tanto fare queste reazioni articoli di tecnologia perché comunque quando voglio comprare un telefonino devo andare siccome mi piace quindi per adesso sta andando su google pixel 3 comunque è ancora una la visione migliori del camera a livello del live streaming perché stiamo parlando di budget cioè telefonini che non costano più di 100 150 euro quindi se vi piace questo tipo di contenuti fate insieme alla prossima ciao ciao